L'Accademia Internazionale Stefano Benemeglio delle discipline analogiche si propone di insegnare e diffondere nel mondo lo studio delle discipline analogiche. Il termine analogia è un termine antico che deriva dalla fusione di due parole greche, ana e logos. Ana propriamente vuol dire senza, logos, parola, discorso. Il riferimento al termine analogico sta a significare che nella quotidianità, spesso e volentieri, noi facciamo riferimento a una comunicazione che va oltre il discorso prettamente logico oltre quello che esprimiamo con la semplice parola. Il nostro stesso gesto, la nostra postura indicano molto di più di quello che vorrebbero dire le semplici parole. Ma il termine analogico, che pur sottolinea una dimensione non verbale della nostra comunicazione, si rifà anche a una interpretazione che del termine analogia hanno dato i filosofi scolastici. Questi filosofi medievali, che facevano riferimento sia Platone sia Aristotile, hanno individuato tre tipologie di termini, i termini univuci, i termini equivici, i termini analogici. Per termine univoco si intende quando un termine si esprime in un dato modo e indica sempre la medesima realtà. Un termine diventa equivoco quando, pur esprimendosi come suono nello stesso modo, di fatto indica due realtà completamente diverse. Il termine analogico, invece, sottolinea come un termine che ha un determinato significato, può essere interpretato e vissuto in maniera in parte uguale, in parte difforme. Allora, lo studio delle discipline analogiche, così come concepite da Stefano Benemeglio, ci permette di cogliere come nel vissuto quotidiano tanti fatti che accadono proprio nella quotidianità, sono di fatto una espressione di fatti precedenti, di un qualcosa che li ha preceduti. Quello che noi oggi viviamo è di fatto il frutto di tutta la nostra esperienza pregressa. C'è un detto che la sapienza popolare ci ha trasmesso, acqua passata non macina più. Ebbene, se la sapienza popolare va sempre rispettata e va sempre divulgata, questo detto è assolutamente non vero, perché è proprio che tutto ciò che va a riguardare il nostro passato, che ci porta a vivere in una situazione contemporanea oggi. Di fatto, proprio la filosofia analogica ci porta a interpretare il fatto dell'oggi oggi, guardando al fatto che l'ha preceduto. Nel passato ci sono sicuramente blocchi fatti che condizionano il presente. Ecco allora che la filosofia analogica ci insegna, secondo quanto ci ha trasmesso Stefano Benemeglio, ad andare a recuperare il blocco del passato, viverlo, viverlo in maniera catartica per riuscire a superare il blocco odierno, il fatto che oggi ci fa soffrire, il fatto che oggi ci impedisce di vivere una vita pienamente vissuta, pienamente umana. L'andare a rivedere in forma catartica ciò che appartiene al passato ci porta oggi ad avere una migliore esperienza di vita, una vita pienamente umana e consapevole.